E' manteca eh, uh se è manteca, sembra bella, sembra bella, io ecco diciamo che voglio fare solamente una dichiarazione, se oggi che giorno è? Sabato, me la sto cominciando a mangiare solo 1.22 qualcosa, però quando uno torna dall'estate no? Non è che sia proprio tutto tutto freschissimo, le sottilette quelle che ho usato di parmigiano stupende, gustose eh? Scaduto il 25 agosto, vabbè diciamo che insomma sono un pochino stanca, un po' stanchine no? Manteca, uh se manteca, non vorrei diventi un attestamento questo qua, poi l'ho caricata un pochino sempre di parmigiano perché non vorrei perdere peso no? Questo qua guarda il bel topino, che bello, simpatico, 8 agosto è scaduto, però piano non si ripropone, l'odore è ancora decente, com'è che dicono che quando una cosa la cucini, muffa non c'è stava, i frigori non faccia nient'altro, un po' di pasta, un po' di odio, un po' di parmigiano scaduto e la sottiletta scaduta, ah avevo anche la panna, avevo anche la panna, quella chef, quella buona, 17 agosto, fa la panna avuto un po' paura, mi sono cagato sotto, sul solito messo in frigorifera, fa la panna tenuta fuori, e allora secondo te sto male, dammi la forza te e dammi lo stomaco strong, speriamo che non sia l'ultimo video, però è bello eh, ma vedi a rischio, io sono un imprenditore, sono un libero professionista, ho scelto un po' di rischio, ma a rischio, tutt'al più, un po' di mardevanzi, tanto per perdere il peso, bella per voi, via la vita, domani, a spesa che dici, bella per te,